È arrivata come prevedibile l'ennesima proroga all'incarico di commissario dell'autorità portuale regionale all'architetto Alessandro Rosselli. Si tratta questa della quarta proroga dell'incarico decretata dal presidente della regione Gianni dopo quelle del 9 luglio del 20 settembre e l'ultima che scadeva il 6 novembre. Rosselli fu nominato segretario generale nel 2022 ma il comune di Viareggio presentò ricorso al TAR visto il parere negativo espresso dal sindaco del Ghingaro sul nominativo di Rosselli. Parere negativo che il sindaco espresse anche nei confronti degli altri nominativi presentati successivamente da Gianni, quello di Alessandro Del Dotto e quello di Nicola Giannecchini. Dal canto suo Viareggio aveva messo sul tavolo i nomi dell'avvocato Fabrizio Miracolo e successivamente quello dell'ammiraglio TAR che però, viste le continue frizioni tra comune e regione, aveva preferito fare un passo indietro revocando la disponibilità. Adesso dunque arriva questa nuova proroga fino, si legge nell'atto, alla nomina del segretario generale e comunque non oltre il 15 gennaio 2024. Un braccio di ferro continuo a quello di Gianni e del Ghingaro su questo nominativo dovuto però, come ebbe modo di accennare il sindaco in occasione dell'ultima proroga al mandato, non solo a questioni politiche ma anche legate a progetti su Viareggio ancora fermi sui tavoli regionali.